Filippo Busin, quali emendamenti la Lega Nord ha presentato alla Legge di Stabilità? Ne abbiamo presentati più di 300, poi abbiamo dovuto fare una scelta ovviamente. Io ho puntato sullo sgravio dell'Immu sui fabbricati industriali sia da base Ires che da base Irap, perché quanto proposto dal Governo è assolutamente insufficiente, soprattutto se pensiamo che in un periodo di crisi moltissime aziende, per non dire la maggior parte, sono in perdita e quindi lo sgravio di una tassa da una base imponibile negativa è praticamente nullo come beneficio. Noi abbiamo proposto di farlo sull'Irap, che invece è sempre positiva, come si sa. Oltre a questo? Oltre a questo abbiamo chiesto un'accelerazione sulla riforma del Catasto, perché qualsiasi intervento che si faccia sull'imposto degli immobili ha questo vizio di avere una base di partenza assolutamente sbagliata e che non rispecchia i valori reali di mercato. Quindi ad ingiustizia si aggiungono continuamente ingiustizie ogni volta che si mette mano alle aliquote o alle rendite catastali. Per quanto riguarda i comuni invece, che cosa avete presentato? Per i comuni e le regioni chiediamo un allentamento del patto di stabilità, almeno per quegli interventi che sono ritenuti improrogabili, come interventi sugli edifici scolastici, per le infrastrutture necessarie. E comunque i nostri emendamenti, i nostri interventi sono sempre a favore di una maggiore autonomia e quindi una definizione più specifica dei tributi da stabilire a livello periferico, per ogni livello periferico di governo.